ragazzi siamo tornati su rom 2 total world con il nostro amico otto carius ciao ne siamo qui oggi ben ritorno su rom 2 total world un assedio di atene una cosa da niente una cosa normalissima che tutti quanti fanno e i nostri rinforzi arriveranno da qui mentre noi ci apprestiamo ad attaccare penso che sarà semplice in teoria dovrebbe essere semplice e va bene sei pronto vai bene ragazzi si cominciamo a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.